Questo? Sta registrando Ok Bella Bella Nash Clyde David & Marley 9 aprile Distanze relative Tu dove cazzo sei? My job is thinking La merda più potente Tutti del tei dentro Mobbip Nash, Enteguasta Lil Jon DasFX Pichel, Tupac Allora Un intro 8 tracce e 4 remix più le versioni strumentali Se voi potete fare freestyle Se non me lo comprate tenete dei barboli Perché a 3 euro non sono un cazzo Accalmatevelo Dovete largire la pecunia Fuori il cash bastardi Sì Sì